Sì, allora il nostro DJ Angelino. Pronto Angelo? Buonasera a tutti. Allora, Angelo è un DJ locale, si occupa di intrattenimento musicale abbastanza pesante, sì, pesante, 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 si fa divertire tantissimo. Musica attuale, house, commerciale, un po' di tutto, abbiamo visto suonare in diversi locali anche qua in Santo Stefano e anche fuori. Il DJ da 10 anni preferisce la house, commerciale e anche il latino house. Poi si ispira a Cristian Marchi e poi dobbiamo dire una cosa, che il nostro Angelino è un autodidatta, anche lui, ha imparato tutto da solo. Sì, sei pronto. Hai bisogno del microfono? Sicuro? Vuoi stare? Pronti? 3, 2, 1, DJ Angelino! Musica Attrae Non mi piace, non mi piace Ti chiedi a te lì, e adesso ti chiedi Oh eh oh Oh eh oh Oh eh oh D'aggidili ma scherz-mo Oh eh oh E' l' qualities Gdili ma scherz-mo T'aggidili ma scherz-mo Oh eh oh Oh eh oh Grazie a tutti. In console DJ Angelino. Grazie a tutti. 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 DJ Angelino. DJ Angelino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.